Ciao a tutti, eccoci arrivati ad un nuovo video. Oggi vi insegnerò una poesia natalizia. Se siete pronti, allora iniziamo! Buon Natale a mamma e papà, ai fratelli, agli zii, ai nonni, che sia pieno di serenità, che esaudisca tutti i nostri sogni, che regali sorrisi a tutti quanti, che ci conceda bracci abbondanti. Sarà una festa davvero speciale, perché siamo noi la speranza di questo Natale. Tanti auguri! Ecco, spero tanto che questa poesia vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate un like qui sotto ed iscrivetevi al canale Maestro Asne. Ciao a tutti e al prossimo video!